Ragazzi, organizzeremo una rapina, anzi no, eseguiremo la rapina del secolo! La rapina del secolo! Avremo tutti i nomi di città e indosseremo delle maschere per non farci riconoscere! Bravo, professore! Sì, sì, sì! Fatemi parlare! Avrete tutti i nomi di città che deciderò io adesso! Tu sarai Torino! Tu Udine! Tu Domodossola! Tu Otranto! Tu Livorno! E tu sei Colombano Allambro! Ma professore, un nome troppo lungo! Fatemi parlare, decido io! Tu sarai Villa San Giovanni in Tuscia! Tu che sei il vecchio di Roccabarbena! Professore, che cosa rapineremo? Il nostro non è un piano semplice, ma è tutto calcolato! Entreremo nella casa di carta, il luogo dove si ammetta la carta stampata! E noi stamperemo ancora di più e nessuno capirà cosa stiamo facendo in realtà! Professore, ma che maschere useremo? Useremo le maschere di un famoso artista italiano, Giuseppe Pellizza da Volpedo! Professore, ma chi lo conosce sto Beppe Pellizza da Volpedo? Ci vuole un artista più famoso! Va bene, sono il capo, ma se avete ragione, avete ragione! Indosseremo le maschere con il riconoscibile volto di Michelangelo! Capo? Dimmi Castelvecchio di Roccabarbena! No, solo che Michelangelo non è un volto così riconoscibile! Forse il nostro artista nazionale più riconoscibile è Leonardo! Hai ragione Castelvecchio di Roccabarbena! Basta cambiare il colore della benda! Della benda? Sì Villa San Giovanni in Tuscia! Della benda! Blu invece che rossa! Domani è il grande giorno, indosserete tutti delle tute rosse! Sì! 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 Tutti a terra! Questa è la rapina! State fermi e non mi succedeva nulla! Chi è il responsabile della stapa qui dentro? Rachele, la negoziatrice! Buongiorno Rachele, mi scuso per la voce camuffata! Devo assolutamente conoscerla di persona per poterla spiare! Ma perché sto ancora usando la voce modificata se sono da solo? Buongiorno, mi chiamo Salvatore, lei? Rachele! Ragazzi, devo darvi una buona notizia e una cattiva notizia! Quale professore? La buona notizia è che mi sono innamorato! La cattiva è che siete entrati in una fabbrica di carta igienica che è nello stesso quartiere della Zecca di Stato! E come ne usciremo, professore? Eh, forse con un aiuto dall'esterno! Lourdes, Međugori... Ah, sono altri rapinatori! No, no, sono delle città! Rachele, ho rapinato il tuo cuore! Che colpaccio! Arrestate Tartarughe e Ninja durante una rapina a una fabbrica di carta igienica! Che fine di m***a! Hai proprio ragione, Castelvecchio di Rocca Barbena! La 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 la... La la la!